Gianfranco, terzo posto, credo che sarai soddisfattissimo, hai fatto una gara molto grintosa e poi è arrivato lì Filippo che andava un po' più forte, però è stata una bella battaglia. Sì, sì, dai, bene, la prima manche, ho combattuto un po' i primi giri con Spongia, era più forte di me, poi è arrivato anche Filippo e così, dai, un'ottima terza posizione che mi permette di andare avanti con i punti in campionato e bene. La pista sembra che ti piacesse molto, da come guidavi? Un po' molto bucata, diciamo, però dai, bella, bella. Complimenti e dopo, ciao. Grazie, ciao.